Torniamo in stampa col numero 76 di Rivoluzione, proprio mentre l'Italia supera i 100.000 morti di Covid. Un anno di pandemia, un anno di una gestione disastrosa e ingiusta al centro dei nostri editoriali. Affossano la scuola, falliscono sui vaccini, salvano solo i profitti. Ma che cos'è Rivoluzione? È il giornale di sinistra classe Rivoluzione, la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Un'organizzazione rivoluzionaria che in tutto il mondo lotta contro il capitalismo. Un giornale per conoscere, comprendere, ma soprattutto per lottare. In questo numero trattiamo le lotte dei giovani in Europa, dallo sciopero delle università inglesi alle rivolte di piazza in Grecia e in Spagna. Il colpo di Stato in Myanmar e la risposta dei lavoratori e dei giovani che sfidano i militari. Ricordiamo i 150 anni dalla Comune di Parigi, la prima rivoluzione operaia della storia. Parliamo di una scuola pubblica affossata dalla pandemia e che il nuovo governo vorrebbe asservire sempre di più al profitto e all'impresa privata. Dalle donne che si ribellano a essere rinchiuse in casa tra telelavoro e figli in dad. Parliamo dello sciopero dei lavoratori Amazon, il primo in Italia, e dei riders che, anche loro, sciopereranno per ottenere diritti, salario e una condizione dignitosa. E mentre i Fridays for Future tornano in piazza, trattiamo di una transizione ecologica che profuma molto di business. Questo e altro puoi trovare su Rivoluzione. Leggilo, discutilo, diffondilo, organizzati con noi. Puoi contattarci per riceverlo oppure abbonarti ricevendo sia il PDF che la copia cartacea. Vai su www.rivoluzione.red.com